E passiamo ora la parola e la palla al dottor Marcello Astori, general manager di Zani Viaggi, al quale chiediamo quali possono essere in questo momento specifico gli aiuti strategici alle aziende del turismo? Buongiorno, sono Marcello Astori, la prima cosa vorrei presentare quello che è il ruolo di Zani Viaggi, Zani Viaggi è il primo tour operator operante a Milano, la nostra specializzazione è essenzialmente quel tipo di turista che arriva in una grande città, nel nostro caso Milano potrebbe essere Roma, Firenze, Napoli, le problematiche sono simili in tutte queste città, che durante il 2020 nel nostro caso abbiamo visto i nostri passeggeri passare da un milione e mezzo a 150 mila, quindi con una perdita incredibile dal punto di vista dei numeri, quindi anche di fatturato, e che sicuramente le grandi città italiane, le città d'arte sono state le più danneggiate dal punto di vista ambientale, perché se prima erano le principali direttive del turismo straniero, con la scomparsa del turismo straniero essenzialmente, è scomparso anche la ragione d'essere di molte attività, molti musei italiani si sono ritrovati senza visitatori, o i pochi che venivano, per esempio a Milano con l'esempio del Cenacolo, non potevano anche eccedervi perché le limitazioni erano addirittura ridicole, perché per esempio in determinati musei l'accesso di 5 persone per volta in sale di 300-400 metri quadrati sembrava eccessivo considerando già un turismo ridotto, però senza far polemiche sulle scelte che sicuramente sono dettate da ragioni ambientali e da ragioni sanitarie, la volontà dovrebbe essere quella di cominciare il 2021, perché purtroppo l'inverno già nelle grandi città italiane, nel turismo incoming in città è molto ridotto, quindi di conseguenza guardiamo già la stagione 2021 e credo che il più grande aiuto che si può dare alle mie tipologie di turismo che rappresento, ma non solo perché è Milano, ma anche a Roma, a Firenze, è un miglior collegamento da parte delle istituzioni, soprattutto di chi gestisce i musei e gestisce le attività per cui le persone vengono nelle grandi città, in modo da fare una tavola rotonda per città, però i musei sono spesso gestiti o dai comuni o dal Ministero della Cultura, per creare una modalità per agevolare, soprattutto quando tornerà al turismo, delle regole, adesso non si possono dire regole chiare, però un piano per fare in modo che quando l'emergenza sanitaria sarà finita ci possa essere una collaborazione precisa, puntuale, rispetto ad aiutare sia le imprese che i musei italiani, perché le grandi città italiane vivono delle bellezze per cui le persone vengono a visitarle, Milano per esempio vive perché tantissime persone vogliono vedere il Cenacolo, il Duomo, Roma che ha il primo museo visitato in Italia, che è il Colosseo con 7 milioni di visitatori, se uno va a Roma come prima volta vuole accedere al Colosseo e spesso e volentieri la difficoltà di accesso a queste tipologie di monumenti o di musei rappresenta un vincolo molto forte per il turista che poi limita la visita nella città. Noi come imprese, sia io che i miei collaboratori a Roma o a Firenze, hanno spesso avuto problematiche nel dialogare con queste istituzioni per avere la possibilità che le persone che sono realmente interessate in un preciso momento che noi veicoliamo abbiano accesso a queste tipologie di musei. Quindi questo potrebbe essere già un inizio, in modo che quando adesso ci sono problemi, però non è il problema di gestire quello che è le visite, stiamo parlando di un anno in cui le visite non ci sono state, quindi un anno in cui dobbiamo sederci attorno a un tavolo e dire ok, cosa vogliamo fare per l'anno prossimo? Ma avendo un dialogo con le istituzioni, perché purtroppo questa è la cosa che manca principalmente. Se uno va a parlare con il Ministero della Cultura sembra che il turismo internazionale non faccia parte rispetto a quelle che sono le visioni strategiche del Ministero della Cultura e questo secondo noi, secondo me e secondo l'azienda che rappresento è un grosso limite a quelli che sono gli investimenti strategici dei turisti in Italia. Io parlo per esempio con i miei colleghi di New York che appena mi dicono ok, voglio venire a Milano, posso venire a vedere il Cenacolo e dico ok, quando volete venire a vedere? No, ma però vorrei avere 20 persone perché vengo con la mia famiglia, posso fare il tour e io mi ritrovo spiazzato perché come azienda del settore che devo fare bella figura a chi poi rappresenterà il mio nome a New York ma a qualsiasi città americana non ho modo di dirgli subito si guarda chiamo un referente all'interno di questo museo in modo che tu possa accedere, te e il tuo gruppo e poi dopo i gruppi che porterai, gli stranieri che verranno a visitare Milano potranno dire ok, faccio riferimento alla Zanni Viaggi o qualsiasi altra agenzia del territorio che non sia necessariamente io per vedere questa attività. Purtroppo c'è un muro che pre-covid era molto alto che vorremmo abbassare post-covid perché se i musei italiani non dialogano con le imprese che portano le persone al museo ci saranno lunghe code fuori, clienti molto scontenti e un'immagine generale dell'Italia molto danneggiata. Questo è il principale aiuto per una rinascita delle città turistiche in Italia che si può avere senza parlare di soldi che si spera arriveranno perché purtroppo le aziende turistiche hanno avuto zero fatturato quest'anno, non dico zero ma prossimo, quindi hanno avuto un grosso problema di cassa che le banche stanno supportando perché ovviamente si presuppone un'evoluzione dell'anno in modo che comunque sì c'è stato un anno di fermo, poi l'anno prossimo dovremo ricominciare non dico gli stessi volumi ma simili. Però a parte l'aiuto economico c'è bisogno di un aiuto di sistema un aiuto che faccia capire che chi gestisce le attrazioni private, pubbliche ma il problema sono soprattutto le attrazioni pubbliche, dialoghi col privato in maniera lineare e ci dica al privato esattamente quali sono gli obiettivi strategici e non che per esempio come succede al Colosseo, per fare un altro esempio, ci sia la ressa fuori e vengono cambiate le regole per comprare i biglietti ogni tre mesi senza interpellare le decine di aziende che creano tour al Colosseo, che hanno tour in cui il Colosseo fa parte io faccio l'esempio di Roma perché lo conosco direttamente mandando altri clienti a Roma avendo pacchetti che non volgono Roma, ma anche a Milano per esempio il comune di Milano ha delle difficoltà a far accedere ai musei civici con cui è molto difficile dialogare il Ministero della Cultura con l'accesso al Cenacolo ha dei problemi legati al numero chiuso ma anche legato a una mancanza di dialogo con quelli che alla fine sono gli operatori che portano il maggior numero delle persone quindi questo potrebbe essere l'inizio in un momento in cui tutto è fermo per far cominciare qualcosa e fare dire alle aziende che investono ok, voglio investire su quello che funziona voglio riportare le persone in Italia e per riportare le persone in Italia dobbiamo puntare su quello che è la ragione per cui l'Italia è conosciuta quindi le sue bellezze e queste bellezze devono essere il più possibile accessibili perché se usciamo da un anno in cui non possiamo vedere le persone e non possiamo girare la prima cosa che voglieremo fare quando tutto questo sarà possibile sarà vedere il più possibile e mi sembra ridicolo che non possa dire da qui a sei mesi ok, cosa vogliamo fare per il futuro questa è la mia opinione su come aiutare le imprese in maniera strategica a costo zero e in maniera facilmente realizzabile per quello che è il futuro del turismo italiano almeno nel 2021 Benissimo, dottor Astori è stato davvero molto esaustivo nel illustrare quelli possono essere appunto gli aiuti strategici al settore turistico parlandoci appunto di questo settore e della Zanni Viaggi e della Zanni Viaggi